Napoli. I social network di Mertens rimangono in silenzio nei giorni di addio del Napoli. Il funzionario di epilogo di De Laurentiis non è ancora menzionato. Ci sarà il tempo e il modo di salutare i fan. Sua moglie Katta ha fatto. Napoli, l'amore della mia vita in una storia. Il miglior marcatore nella storia del Napoli lascia con sé il ricordo di 148 gol in 9 stagioni. È arrivato come uno dei tanti ed è andato come il re dei gol, l'idolo della folla. I fan non me ne pentino hanno preso una decisione sulla vita di non accettare quanto Di Laurentiis avesse proposto. Uno sforzo per rimandare l'adio. 2,4 milioni per un anno non sono stati sufficienti per dire di sì e vivere un'altra stagione per arrivarci in figure a doppia cifra. Si ferma a 9, Mertens, nonostante una negoziazione anche lunga, una volontà comune da Napoli. Fu immediatamente con la visita a casa sua a De Laurentiis senza capire. Saluti, dalle parole alle pubblicazioni. Dopo la cordiale fiducia di De Laurentiis per i fan nell'offerta rifiutata e dopo il suo annuncio sulla radio. Ufficiale di sabato con un ringraziamento molto sincero. Napoli ha salutato Mertens sui social network ieri mattina con una pubblicazione che ha spento anche le speranze di. Quei pochi fan ancora credevano in una svolta. Grazie Mertens, il messaggio con il video dei suoi allegati più belli. Un minuto in cui sono stati raccolti nove anni intensi e indimenticabili. Goum ha commentato che ha iniziato la sua avventura a Napoli sei mesi dopo Mertens e lo ha finito. Il Napoli ha anche pubblicato nove foto con i nove punti utilizzati da Mertens dal 2013 al 2000, 22 con 14 sul retro e il peso di ogni stagione diversa. Mertens proveniva dal PSV come alternativa a Insigne a sinistra. Divenne il centro dell'addio di Higuain e poi aveva un faro per i più piccoli e i nuovi arrivati. Felici di suonare quando Spalletti lo considerava appropriato. Ciao a secco! Nei social network i messaggi dei fan che lo salutano e lo ringraziano per gli obiettivi, la magia. Le emozioni e la capacità di essersi innamorati della città, fino a quando non diventano un napoletano acquisito. Molti gesti di solidarietà in silenzio. Nell'ombra e nel campo, il sorriso come una costante di un personaggio soleggiato e attraente. Mertens si è fermato nel più bello, dopo una stagione in cui non è sempre stato il protagonista e ancora.